Allora, stiamo raccontando sempre, siamo partiti da una storia, una storia molto importante, molto toccante, significativa, che ce la sta raccontando Alessia, la storia della sua vita, e siamo supportati dalla dottoressa Giuseppina Figlieri, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Libra, stiamo parlando di casi di bullismo. Giustamente Alessia ha detto che il bullismo non è solo violenza, lotta, ragazzino che viene assalito, che si può pensare, eccetera, non è soltanto al maschile, ma anche al femminile, e si manifesta in diversi modi. Dottoressa, un altro aspetto importante è che la famiglia ci deve essere, cioè un ragazzino, una ragazzina, 11 anni, è troppo piccolo, un bambino, poi se capita all'elementare, è ancora peggio, è troppo piccolo, troppo fragile, per potersi difendere dai confronti di questo mondo che improvvisamente non lo riconosce come nel branco, perché è un branco, e lo colpisce, forse anche per invidia, chissà, perché ci possono essere anche invidie, no, che vari meccanismi che sorgono. Come si fa però a capire che, giustamente Alessia ha detto io ho capito che ho incominciato ad avere certi atteggiamenti, ma che cosa? Allora, di solito Alessia ha dato l'indicazione di un'età, no, 11 anni, è cominciato tutto a 11 anni, consideriamo che in quell'età finisce l'età della pubertà e si inizia, si entra in quella che è poi l'adolescenza, no, per Antonomasia è il periodo di grandissima metamorfosi, quella in cui bisogna metaforicamente uccidere il bambino, no, lasciare la famiglia, abbandonare la famiglia d'origine e lanciarsi all'interno di questo mondo sociale che deve accettarti, quindi che cosa devi fare? Devi proporti, devi proporti in tutto quello che sei, devi imparare comunque a relazionarti, inizi ad avere i primi amici, inizi... chiaramente essendo un periodo proprio di cambiamento, di metamorfosi, lo sappiamo tutti, siamo tutti stati adolescenti, quindi le grandi lotte in famiglia per ottenere quella che è la libertà, perché lo abbiamo fatto tutti, possono essere comunque confusi, perché sono bene o male gli stessi sintomi oppositivi o gli stessi segni oppositivi che si possono manifestare quando un nostro figlio o nostra figlia può essere vittima di bullismo. Chiaramente l'attenzione che bisogna porre è che questi segni sono esacerbati, sono molto molto più forti, ovviamente tutta poi una serie di sintomi che abbiamo visto prima, quindi il rifiuto di non voglio andare a scuola, manifesta sempre malessere, piuttosto che tono dell'umore molto molto basso, quindi bisogna fare attenzione a tutti questi segnali e poi un'altra cosa, il coordinamento forte con la scuola. Quindi recuperare... Dove la scuola capisce perché ci raccontava che gli insegnanti non è che fossero collaborativi. Ma parliamo anche di tanti anni fa, nessuno si muoveva. Consideriamo che dal 2017 esiste una legge, la legge 71 del 2017 che è quella del cyberbullismo successivamente al suicidio di Carolina Picchio. Ogni scuola, le scuole di ogni ordine e grado hanno l'obbligo di avere un referente per il cyberbullismo. Ora è vero, non basta solamente nominare il referente del cyberbullismo. Bisogna comunque avere un'adeguata formazione che consenta non solo a questa persona che si prende l'incarico, bisogna comunque che tutto il collegio docenti, tutta la scuola si renda partecipe proprio di poter affrontare insieme tutte queste dinamiche. Perché chi la scuola che nega che esistano questi episodi finge. Assolutamente. Se tu fossi, o quando diventerai mamma, insomma, avrai magari se avrai voglia di avere bambini, insomma, a prescindere, che cosa staresti particolarmente attenta? È perché hai maturato un'esperienza molto importante, un patrimonio, cerchiamo di oggettivizzare, è un patrimonio di conoscenze. Perché chi vive direttamente acquisisce anche una sensibilità diversa da chi non ha sofferto. A che cosa presteresti più attenzione? Senza per fare il seno di poi della tua famiglia? Certo, visto l'era mediatica in cui siamo, quindi l'importanza anche se dai social, io farei un po' in realtà un po' quello che hanno fatto anche i miei genitori con me, ovvero sono partito, prima di potermi dare in mano l'arma che in realtà è diventata avere un telefono e possedere i social, mi hanno messo in guardia su tutti i rischi che puoi correre su internet in maniera migliore con cui approcciarsi a quello che è la socialità su internet, che sembra una barzelletta, la fanno tutti molto facili, però in realtà esporsi sui social ha dei rischi notevoli, soprattutto per il futuro, perché sul momento magari ci ridici scherzi, pubblichi quello che ti pare, fai un po' lo sciocchino e poi quando invece ti devono assumere, casca al palco perché nessuno poi ti vuole, ed è pericoloso perché i miei mi hanno messo molto in guardia su questo, di fare attenzione su cosa carico, su cosa posto, su come tratto le persone, anche perché tutto torna prima o poi, se tu dai solo cattiveria prima o poi troverai qualcuno che è più cattivo di te e che quindi ti darà indietro quello che tu hai dato probabilmente per anni ad altra gente che non sapeva difendersi come me. Poi sull'attenzione, sui dettagli, credo che sia un po' difficile perché la sbogliatezza, la rabbia è tipica dell'adolescenza, quindi a volte è un po' davvero difficile rendersi conto delle differenze. Chi poi come me si è chiusa completamente, io ho tenuto nascosto gli attacchi di panico per quasi cinque anni, se non di più, quindi... Una capacità incredibile anche. Ma perché il problema è che diventi bravo a mentire e a nascondere le cose. Però infatti volevo farti una domanda dopo questa, si mente. Sì, sì, io non sono una... Allora, io prediligo la verità sempre perché mi hanno detto tante bugie negli anni, tante cattiverie che essere cattiva nei confronti degli altri o mentire agli altri mi sembra proprio di una bassezza imbarazzante, quindi io preferisco una verità scomoda, ma anche dai miei amici che ho trovato e che vivono sulla mia stessa lunghezza d'onda e che mi sostengono tanto, devo essere sincera, senza di loro non mi sarei mossa dal primo esame di università. Io punto sulla verità, sempre. Però negli anni sono diventata tanto brava a nascondere quello che non voglio che gli altri sappiano. Ma anche i genitori... Può essere che... E quindi qua ti faccio la domanda in riferimento, adesso chiedo anche il supporto della dottoressa, in riferimento alle conoscenze che tu hai avuto perché poi hai partecipato a dei corsi, a delle sedute di terapia, eccetera, quindi hai conosciuto anche tanti ragazzi che hanno vissuto situazioni immagino analoghe, che questi ragazzi mentano. Sì, ne sono cosciente, ma sono proprio sicura. Durante il mio periodo in ospedale avevo due compagne di stanza e entrambe che si sono buttate sull'autolesionismo. Mentre io non dico lo faccio in modo moderato perché non è vero, però in maniera che puoi incidere meno su quello che è il rischio per il tuo fisico, perché io strappo punti di pelle, non incido mai la pelle che rischi di avere importanti emorragie, soprattutto se, passatemi il modo, lo fai in modo più superficiale e non conoscendo quello che trovi sopra il primo strato di pelle, perché è un secondo beccare un punto sbagliato. E loro sono tanto più, erano tanto più brave di me a mentire, perché io l'ho visto e non se ne sono resi conto neanche all'interno dell'ospedale all'epoca, neanche all'interno dell'ospedale. Poi io sono sempre stata un po' mamma chioccia con le persone con cui mi trovo bene, quindi do il mille per mille per aiutarle in qualsiasi cosa, però in quel caso ho dovuto impuntarmi, ma pesantemente, neanche fossi la madre al momento. Per difenderle. Sì, e perché uscissero un pochino dal pensare che fosse normale e che fosse giusto così, perché non è così, non è vero e mi rendo conto che sia facile pensarlo, perché io negli anni ho pensato di meritarmi tutto quello che mi è successo e non è vero, non è vero, lo sto capendo adesso, però sono sempre più di dieci anni di cose che ho incamerato e ho messo lì e si sono proprio messe lì e sono fisse, non riesco a togliermele, ho dovuto impormi perché tirasse fuori questa problematica più importante, però se non mi fossi imposta io perché l'ho beccata, e letteralmente solo perché l'ho beccata. In che senso l'hai beccata? Perché il bagno era unico e si era dimenticata di chiudere la porta, io ho sentito il rumore, sono entrata e mi sono accorta, ma non perché mi ha messo a parte a questo problema, ma perché è stata colta sul fatto. Anch'io a volte ho tirato fuori delle problematiche perché sono stata colta sul fatto, perché magari ho avuto un attacco di panico in un momento sbagliato e non ero stata più in grado di ritornare a uno stato di calma e che quindi ho dovuto per forza coinvolgere i miei che hanno sviluppato vari modi di aiutarmi. Però è bello, perché adesso passo la parola subito, perché ti raccontavi prima fuori onda, che tuo padre si è talmente preso a cuore la situazione che è diventato addirittura un formatore, insomma si è specializzato. Sì, mio padre ha fatto, diciamo, del volontariato, chiamiamolo così, è andato per le scuole a portare dei corsi in cui parlava di cos'era il bullismo, il cyberbullismo, quali erano i rischi anche a livello legale, perché tutti pensano che non possano esserci ripercussioni, invece possono esserci se il problema viene tirato fuori. non come me che l'ho tirato fuori a dieci anni dalla cosa che non ha più validità e lui si è mosso. E questo ti ha dato orgoglio? Sì, sono andata a tutti, avevo provato ancora a suo tempo a espormi un po' di più, a tirare fuori le cose, ma all'epoca non ero pronta, ero neo diciottenne, ci ho provato e non è finita molto bene, sono riuscita a dire, penso, due parole prima di scoppiare a piangere disperata davanti ad altre tante mamme disperate che mi guardavano, è stata lacrime su lacrime che versavano tutti, perché io piangevo le mamme che hanno capito che c'era qualcosa che piangevano a loro volta e mio padre lì che doveva guardare 30 donne che piangevano tutte insieme, quindi lui l'ha fatto in tante scuole diverse a Padova. Allora, l'importanza è di avere dei genitori che diventano attivi, è fondamentale? È fondamentale, è fondamentale, è vero anche che però... Non è da tutti per carità, ok? Non è da tutti e oggi più che mai riscontriamo proprio una sorta di, no, quasi abbandono dei figli, abbandono agli strumenti informatici, abbandono a se stessi, molto spesso non sappiamo che cosa fanno, dove vanno, chi incontrano. La stessa cosa che facciamo o che dovremmo fare nel controllare i figli, nella vita reale dovremmo farla anche nel web. Molto spesso, dicevo, alcune volte capita che nonostante vi sia una famiglia presente come quella di Alessia, io volevo portarvi anche proprio quello che è invece un caso in cui poi Michele, in questo caso Michele Ruffino, e collaboriamo con l'associazione Mickey Boyce che è nata successivamente poi al suo suicidio, non ce l'ha fatta. Michele, a causa di un danno subito successivamente a un vaccino, quando aveva sei mesi, sviluppa una serie di ipotonie agli arti inferiori e superiori. Quindi Michele non è in grado di stare in piedi, non è in grado di reggersi sulle gambe, fa molta fatica. successivamente negli anni riesce finalmente a rendersi autonomo con il supporto costante della sua famiglia, però comincia ad avere questi attacchi di bullismo, quindi viene isolato, viene denigrato, viene vessato, sputato, deriso ogni volta che cadeva, finché Michele non ce l'ha fatta più, non ce l'ha fatta più e il 23 febbraio del 2017 Michele si suicida. quindi Alessia ce l'ha fatta, nonostante comunque le problematiche, Alessia ce l'ha fatta, c'è stata sempre. Nel caso di Michele il problema grosso è invece che nonostante le denunce da parte della mamma alla scuola, guardate che capita questo, la scuola non c'è stata. Quindi l'assenza, vedete, è proprio quello che dicevo, no? Il fatto di avere un patto di corresponsabilità non solo sulla carta, ma che veramente vada a interagire tra quelle che sono le figure educative di riferimento è indispensabile, perché se no, se da un claudicante o da una parte o dall'altra, purtroppo gli esiti possono essere anche funesti. Assolutamente, lei mi aveva accennato quando abbiamo parlato anche al telefono un po' di questo, che questi atti di bullismo possono provocare anche disturbi alimentari. Assolutamente sì. Io adesso non ho capito se nel tuo racconto tu hai incominciato a mangiare per proteggerti, mi sembra che hai raccontato, no? Così c'è una correlazione sia in un modo che nell'altro, cioè abbiamo poi tantissimi casi anche di anoressia tra l'altro. Assolutamente sì, quindi ci sono, che non si sa, che possono provocare anche delle situazioni paradossali, terrificanti. Assolutamente sì. Che correlazione c'è? Beh, è una correlazione importante. Perché forse questo è visibile anche alla famiglia, no? Questo è visibile alla famiglia che potrebbe accorgersi, come no, cioè il fatto comunque di nascondere, il fatto di nascondere il dolore, il fatto di utilizzare delle strategie che possano lenirlo in qualche modo, perché poi alla fine quelli che ha elencato Alessia dagli atti autolesionistici, piuttosto che alle abbuffate, piuttosto che alla anoressia, quindi mi deprivo completamente di cibo, sono tutte dinamiche che vengono attivate per cercare in qualche modo di lenire il dolore. Il dolore che è talmente tanto devastante, talmente tanto forte, che non ti fa sopravvivere al giorno successivo. Quindi per evitare anche per un solo momento, per una durata pochissima, perché poi alla fine la buffata, se io ho una buffata, sappiamo benissimo che dopo quello che ho, certamente per quel momento lì mi fa star bene, però dopo io ripiombo nello stesso identico dolore, con un senso di colpo ancora più grande, ancora più elevato. Assolutamente, quindi sono visibili e attenzionare certamente, controllare assolutamente i figli, non vuol dire violare la privacy, anzi ricominciamo a farlo, soprattutto in questo periodo, perché purtroppo sento moltissime persone, e questo mi dispiace dirlo, che questi scoppi di violenza sono dovuti al Covid, che il Covid ci ha portato ad avere questo tipo di situazioni, a vivere questo tipo, certamente è drammatica, e questa è una vera emergenza, un'emergenza sanitaria, ma che non mi vengano a dire che l'emergenza, bullismo, di cui parliamo da tantissimo tempo, sia nata col Covid. Non abbiamo fatto altro che metterlo sotto i tappeti, addebitando le responsabilità all'uno, all'altro, è colpa di chi? Non si sa mai di chi è la colpa, certamente non è colpa del genitore, certamente non è colpa della scuola, certamente non è colpa del ragazzo, e allora di chi è la colpa? Quello che facciamo, e lo facciamo dal 2016, in collaborazione con il SIAP, che è il sindacato della Polizia di Stato, e il promotore di questa iniziativa è Mattia Mingardo, con la fondazione AsoSafe, che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, quando ha deciso di avviare il progetto Frenna il Bullo, l'ha fatto con un intento, e lo slogan che si legge sul sito di Frenna il Bullo è questo, la scuola è il tuo primo posto di lavoro, rendilo sicuro. Quindi quello che facciamo è proprio cercare di sensibilizzare, di orientare, quello che dobbiamo fare è prevenire, perché poi quando il morto c'è e ci scappa, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo argomentare, possiamo trovarci in mille studi, possiamo parlare, ma facciamo un po' la fine delle cicale, no? Dopo un'estate a cantare, poi muoiono, cioè non si produce nessun tipo di cambiamento, nessun tipo di risultato. Agiamo quando si può agire, e quello che dico è proprio questo, e quello che ho fatto in questo libro, che si chiama Michi il principe pasticcere, è stato quello di raccontare in una favola la storia di Michele. L'abbiamo portato nel primo progetto pilota a Torino, in una scuola dell'infanzia. Il progetto si chiama Come la marmellata, è un progetto bellissimo, Come la marmellata è un pezzo di una frase di Italo Calvino, no? La fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane, se no rimane una cosa in forme, come la marmellata, appunto. Per poter strutturare identità e personalità sane, in grado di potersi progettare e strutturare nel futuro, dobbiamo partire fin dalle prime fasi di socializzazione. Beh, io posso dirvi che attraverso questo progetto, attraverso questo lavoro, attraverso la lettura di una favola, i bambini poi hanno realizzato delle cose fantastiche, i bambini ci sono a tutto tondo, i bambini capiscono, i bambini comprendono perfettamente che il bullo non è una persona cattiva, perché è nata cattiva. I bambini comprendono che quella persona ha imparato la cattiveria, ha imparato la violenza, la manifesta così, nell'unico modo che conosce. Perché? Perché vuole essere anche lui all'interno di un gruppo, all'interno di una scuola. All'interno, sì, il riconoscimento della propria identità, no? Potersi proporre con tutto quello che abbiamo a disposizione e quello che facciamo costantemente e quello che parliamo sempre di, noi parliamo di bullismo. Ricordo una cosa, devo sottolineare una cosa, il bullismo non è una malattia, attenzione, non è che io sono malato di bullismo, il bullismo di fatto se vogliamo non esiste, non esiste neanche come reato, si concretizza con una serie di reati, no? Che possono essere dagli abusi, i maltrattamenti, le violenze. Però se ci fossero delle, appunto, non è un reato per carità, però siccome anche i più, se ci fossero delle sanzioni, delle repressioni, delle punizioni anche, secondo me, chiamiamolo come se sto benedetto ragazzo o ragazza che si comporta in un certo modo, forse qualcosa capirebbe, perché a un certo punto hai fatto del male a una persona ad un'azione, quindi qualcosa servirebbe, non è che bisogna dire poverini, poverini sono vittime di una società che li ha perseguitati, perché allora così siamo compiacenti con tutto un sistema e vediamo quello che sta succedendo. Assolutamente, servirebbero e servirebbero e come, però il problema non viene dai ragazzi, perché i ragazzi accoglierebbero anche quella che è la punizione, l'accoglierebbero è la famiglia che sta dietro il sistema. Ma se io, adulto, continuo a dire, alla fine sono sempre le solite ragazzate, lo abbiamo fatto tutti, no? Alla fine non vado altro che a giustificare e a cementare quel comportamento come un comportamento che è giusto ed è legittimo, cioè quello che noi stiamo facendo è abituare i nostri ragazzi, intanto, se noi ci guardiamo un attimo intorno, sono tutti uguali, cioè sono tutti ragazzi uguali perché questo gli dà la possibilità di non esporsi, perché se mi espongo io in qualche modo mi devo proporre, propormi significa comunque far vedere quello che è la mia debolezza, no? La mia fragilità. Quindi rischiare, assolutamente. Assolutamente. Nel percorso, che siamo in chiusura, comunque nel percorso di cura che tu hai intrapreso, c'è stata anche la cura farmacologica? Sì, ne ho provate un paio a più riprese, ma non l'ho mai trovata come una soluzione. Alla fine era diventata più un, beh stai meglio perché tanto stai prendendo i farmaci, senza non saresti andata avanti. Allora io ho smesso più volte, ho smesso due, ne ho cominciati due diversi, l'ultimo per cercare di controllare il mio togliermi la pelle dal corpo e anche là sembrava che i miei miglioramenti fossero tutti incentrati perché c'era il farmaco, in realtà il farmaco di per sé non fa niente, è come se non li prendessi, come se non li avessi mai presi perché smessi, sono riuscita a migliorare lo stesso con la stessa rapidità con cui sono riuscita a migliorare. È una questione di volontà venirne fuori? Nel mio caso sì, però se ci metti a tutti i problemi di ansia che ho sviluppato io negli anni, una depressione profonda, allora no, perché lì si parla di scompenso ormonale, non c'entra più niente la tua forza di volontà. Entra lo scompenso ormonale, quindi ti hai detto la parola chiave, questo è importante. Non è più una forza di volontà, io non sono mai caduta in una depressione profonda, quindi ho sempre avuto modo, nei momenti in cui volevo, di rimboccarmi le mani e tirarmi su, con o senza farmaci e continuerò così. Il beneficio del farmaco è che ti togli l'appetito, sempre. Quindi magari uno che ha un problema opposto va ancora più in uno stato di... Ma io ho sviluppato, poi dipende come riesci perché non è che io ho sviluppato, ho aumentato il peso perché mangiavo e basta. Io ho provato a bilanciare la cosa, ma non ci sono riuscita. Anche là sono sottigliezze, perché a volte anche una persona che all'apparenza sembra normale magari soffre di bulimia, quindi comunque mangia tanto, vomita ed è comunque in uno stato fisico che alla società sembra perfetto. Cos'è cambiato? Niente. Io semplicemente peso di più, c'è chi pesa molto poco, però i problemi si riuniscono sempre allo stesso punto. Un consiglio che ti senti di dare? Agli altri? Fate entrare la gente. Io ho bloccato, mi rendo conto che ho perso tante amicizie perché non ho fatto entrare nemmeno i miei amici nella mia piccola sfera, buttando giù i mattoncini che servivano giusto per vedere un pochino dentro. Lo sto facendo adesso, mi sono circondata di tre ragazze fenomenali, più quelle che ho conosciuto all'università che mi hanno aiutato passo dopo passo e due ragazzi senza cui ormai penso che non potrei andare avanti e li ho fatti entrare. Quello ha cambiato completamente il mio modo di approcciarmi alle cose. Ho fatto entrare la mia famiglia prima e adesso ho fatto entrare loro nella totalità di quello che è il mio passato, di come lo sto affrontando e dei lavori che devo fare per riuscire a sbloccare ancora di più la situazione e loro non mi mollano mai, non mi mollano mai. Non giudicano. Non giudicano per niente. Questa è una cosa molto bella. Allora, come chiusura, ho detto due cose molto importanti. Diventa un problema ormonale, questo aiuta per comprendere anche certe dinamiche e non è più un fattore volontaristico perché tanti dicono ma se tu vuoi ne vieni fuori. No, diventa quasi metastasi. Può sfociare in delle malattie. Non è una malattia. Esatto, volevo dire può sfociare questo, cioè viene metabolizzato a livello tale, somatizzato, ecco il termine più corretto. Può portare a delle malattie anche psichiatriche. Quindi ci posso, questo per allertare i genitori, non trascurate perché a seconda della persona, non tutti hanno il carattere forte che Alessia. Assolutamente no. Affidarsi a dei professionisti, chiedere aiuto non vuol dire non essere dei bravi genitori. Anzi, al contrario, nel momento in cui si chiede aiuto si ha la piena consapevolezza che c'è bisogno di un intervento perché da soli non ce la facciamo. Quindi questo è importante. Io le do un dato per farle comprendere proprio in velocità a quello che può essere anche l'omertà rispetto a questo. Noi abbiamo circa 200 visite al giorno della nostra sola regione del nostro sito internet. 200 visite sono tantissime, una media di 200 visite al giorno. Quindi questo fa capire che qualcosa sono veramente forse cinque o sei al mese che ci contattano. La paura e l'incapacità di spingersi a chiedere aiuto va ancora di più a invalidare quello che è il nostro essere genitori. Un supporto alla genitorialità non vuol dire essere fallimentari. Non c'è un manuale d'uso per essere genitori. C'è un manuale d'uso se vogliamo capire invece come funziona internet che è GPT Social Genitori 4.0. Da cosa dobbiamo difenderci? Come fare? Quello che diceva Alessia, imparare bene. Esatto, assolutamente. Benissimo, dottore Silo, ringrazio tanto di averci dato queste istruzioni per l'uso. Grazie Alessia, della tua testimonianza, veramente importantissima. Comunque hai fatto un salto di qualità impressionante perché effettivamente non è facile raccontarsi raccontarsi, assolutamente. Quindi diciamo che è un grosso passo verso l'uscire da questo tunnel. Ne esce Alessia? Assolutamente sì, ne esce. Ne esce, ne esce alla grande e Alessia sta facendo dei progressi molto importanti, dei passi molto importanti. Si progetta nel futuro, cosa che magari forse prima non riusciva a fare. Ha un grandissimo supporto che è quello della sua famiglia, dei suoi amici, ma anche tutti noi che siamo qui a fare il tifo per lei e Alessia ce la fa. Assolutamente. E poi quando diventerai dei gris a questo punto, perché c'è un bel obiettivo, ce lo verrai a raccontare. Certo, volentieri. Nuovamente come professionista, qui speriamo tutti di esserci naturalmente. Grazie Alessia, in bocca al lupo per la tua avventura e grazie a lei dottoressa, grazie a voi telespettatori per averci seguito. Restate con noi, che naturalmente noi continuiamo le nostre interviste. Grazie a tutti.